Buongiorno, eccoci ai Giardini Reali, siamo sul tram 312 e percorriamo la tratta che ci porterà fino a capolinea di piazza Castello. Tram 312 è stato costruito nel 1935 dalla Carminati e Toselli per le tratte urbane della rete romana stessa, la termine di Cinecittà e la termine di Chiubarnetti. Per l'epoca è la più moderna evoluzione di un progetto romano denominato MRS, moto rimorchiata a saglio, dal nome del progettista. L'intuizione di base semplice, una motrice a due carrelli che vada a sostituire i vecchi congogli, motrice e rimorchio. La 312, molto simile all'MRS di servizio sulla rete urbana dell'allora ATA, ha la cassa interamente metallica, oltre alla librea bianco e blu e al valtografo. La motrice presta il servizio intenso fino al 1980, quando l'ultima linea Steffert viene chiusa. Abbandonata a lungo nel deposito romano dell'Alberone, viene scelta per far parte di una collezione storica. Nel 2008 la TTS la recupera e nel 2011 completa il restauro nelle condizioni d'origine, aggiungendo però altri due motori agli originali. eccoci in piazza Castello, dove rimarremo fino alle 11.30 circa. oggi dedichiamo questo giro alla festa della donna. Sul nostro sito nella sezione articoli trovate l'approfondimento su questo tema con tutte le fotografie storiche che abbiamo raccolto raccolto e tutti i lavori che abbiamo fatto, i video, i podcast relativi alla festa della donna. Per oggi vi ringraziamo, vi auguriamo buona domenica e vi raccomando seguiteci sempre sui nostri canali e sul sito internet www.atts.to.it www.atts.it 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 www.atts.it